All'evento Branch Transformation che si è tenuto a Londra, Auriga ha presentato una soluzione innovativa che cambia l'accoglienza nelle filiali. Quali funzionalità offre al cliente che entra in banca? Il cliente può accedere immediatamente ai servizi di carattere operativo avendo un ticket di riferimento per l'erogazione del servizio, piuttosto che chiedere alla consulenza immediata di un consulente all'interno della filiale bancaria il quale potrà rispondere a tutti i suoi quesiti relativi al servizio richiesto. Servizio richiesto che può essere un mutuo, una carta di credito o qualsiasi servizio di carattere finanziario e consulenziale disponibile all'interno della filiale bancaria. Se il cliente ha bisogno di aiuto o di assistenza che cosa può fare? Se ha un problema il sistema offre una funzionalità di supporto in videoconferenza con cui il cliente potrà o chiedere il supporto di un operatore remoto per eventuali assistenze di carattere operativo piuttosto che contattare un consulente disponibile all'interno della filiale che in un tempo relativamente breve lo raggiungerà nell'area di accoglienza della filiale bancaria. Quali vantaggi ottiene la banca adottando questo sistema di accoglienza? La banca avrà il vantaggio di efficientare gli investimenti fatti per il rimodernamento delle filiali bancarie e poter monitorare e supportare meglio la clientela nell'accesso ai servizi offerti da ciascuna filiale. Questa soluzione migliora anche l'esperienza del cliente in filiale? Sì, avvicina il cliente alla filiale e alle risorse umane disponibili nella filiale. Il cliente non avrà solamente un contatto con le macchine deputate all'erogazione del servizio ma avrà anche un contatto e un modo di accedere alle risorse disponibili all'interno della filiale bancaria tramite uno strumento che può sì avere un mero contatto tecnologico ma anche richiedere il supporto di un operatore remoto che aiuterà e indirizzerà il cliente nell'accesso ai servizi offerti dalla propria filiale. A Londra, Auriga ha presentato al mercato internazionale anche un'altra novità una soluzione che supporta le banche nel cash management. In che modo migliora questo processo? Questo sistema offre la possibilità di efficientare e ottimizzare il processo di approvvigionamento del cash nelle banche partendo dalla filiale bancaria fino ad arrivare alle casse centrali. Il sistema offrirà una previsione su quello che è il flusso di approvvigionamento necessario affinché aumenti la disponibilità del contante all'interno della filiale ma riducendo i costi di servizio e i costi di giacenza del denaro. Grazie a tutti!